questo è uno dei tanti pc dello studio e come tanti pc dello studio ha tanta polvere e tanta polvere tanto onore non penso andasse così comunque questo pc ci servirà oggi per spiegare esattamente il giusto numero di operazioni che si fanno per tenere bello pulito un pc così complesso ho scelto quello con più ventole più casino più porte più robe in assoluto in maniera che possiamo coprire ogni roba cerchiamo di capire come pulire un pc fare manutenzione correttamente cosa non fare assolutamente perché ci sono degli errori basilari like commento iscrizione e iniziamo prima cosa da fare quando vogliamo pulire un pc radunare gli strumenti che ci serviranno in realtà potreste fare tutto quanto con un semplice panno e tanta tanta pazienza però se volete semplificarvi le cose ascoltatemi bene i computer sono fatti di tante piccole parti molte di queste sono delicate e non vogliamo in alcun modo danneggiarle pertanto primo elemento necessario massima massima cura e pazienza non tirate non sfregiate e se possibile piuttosto smontate perché meglio allora adesso l'ho tolto perché sennò riflette ma qua davanti solitamente ci sarebbe il vetro cosa utilizzo io per pulire i vetri prima di tutto utilizzo chiaramente un panno in microfibra sono la cosa migliore in assoluto per pulire se ne avete uno un po più grande di questo ancora meglio pulitelo spesso ma in generale già solo questo sfregandolo molte volte pulirà il vostro vetro però se doveste avere delle macchie particolarmente forti io utilizzo sia per i monitor che per appunto i vetri un liquido specifico che è fondamentalmente molto molto delicato non ha alcol non ha niente di particolare costa poco ve lo danno anche col pannetto è molto comodo lo trovate su amazon vi lascio il link giù in descrizione se no ferramenta cinese o dove volete oppure potete utilizzare il vetril se parliamo di vetri non trattati state attenti che non abbiano pellicole o protezioni questo ci servirà dopo quando puliamo i vetri è fantastico perché ci potete pulire qualsiasi cosa tra cui i vetri stessi di casa vostra se necessario però per monitor portatili and held qualsiasi cosa abbia uno schermo un vetro assolutamente super valido io lo utilizzo da anni ne ho diverse ne avevo coperto tipo 5 6 confezioni e ancora le utilizzo è la stessa di 5 anni fa probabilmente ora i prodotti sono anche migliori non lo so comunque molto molto carino questo penso lo conosciate tutti lo swiffer allora i panni antistatici si possono utilizzare a differenza di quello che pensano molte persone non producono così tanta corrente da danneggiare una non fanno così tanta elettricità statica da danneggiare i corpi del pc non sono così sensibili l'henus l'ampiamente dimostrato ad ogni modo la cosa più importante però è che se utilizzate questi che hanno questi piccoli filetti dovete stare attenti a non far sì che non si infilino tipo in queste zone qui che non rimangano perché potrebbero condurre elettricità quando invece riaccendete il pc assolutamente molto molto importante che effettivamente non lasciate residui se no utilizzate un normale panno in microfibra che oltretutto è molto più cinematografico guardate quanto residisce meglio la luce comunque è questo il vostro candidato numero uno se ovviamente avete pazienza di pulirlo ogni tot e infine ragazzi il mio prodotto preferito che goduri a usarlo in estate uno spara aria potete utilizzare anche il retro di un aspirapolvere qualora sia omologata per farlo ma uno spara aria una bomboletta d'aria compressa un piccolo compressore sono assolutamente un'ottima soluzione per rimuovere tanta polvere specialmente in case più grandi in maniera approssimativa prima di iniziare le pulizie di precisione unica cosa ragazzi molto importante questa non dovrebbe farlo però bombolette e compressori comprimono l'aria l'aria all'interno anche dell'umidità spruzzare troppa aria compressa potrebbe arricchire di umidità le vostre componenti e questo ovviamente non è bene aspettate un po di tempo prima di riaccenderle se utilizzate quel tipo di cose con questi cosini qui che semplicemente sono delle turbine che sputano aria non dovrebbe succedere però se usate bombolette in particolare fateci attenzione iniziamo allora punto numero uno che vi straconsiglio smontate tutto smontate il più possibile perché vi semplificherà la vita togliete i filtri antipolvere ovunque specialmente se sono molto impolverati metteteli da parte lasciate solo le nude e crude componenti così è la loro polvere anche i pannelli frontali staccate tutto lo staccabile soprattutto i filtri antipolvere saranno carichi di polvere e ci daranno accesso a componenti che normalmente non puliremmo ma che sono piene zeppe del nemico numero uno delle temperature allora prima di tutto io farei una spolverata generale consiglio ovviamente più valido possibile soprattutto per non prendere buota in testa da consorti fidanzate e madri fatelo all'esterno spolverate fuori perché poi è un casino quando avete 60 kg di polvere di pc in giro per la stanza fatelo fuori oggi da me c'è una tempesta quindi non so se riusciamo a farlo provo allora io ora sono rivolto verso una porta finestra quindi qualsiasi cosa voli volerà fuori e non si accumulerà nell'ambiente interno voi fatelo all'esterno assolutamente a meno che non abbiate una soluzione simile ricordatevi se ce l'avete di togliere anche il pannello posteriore molto importante perché anche questo qui per esempio nel nostro caso ha delle ventole e il suo filtro antipolvere da pulire semplicemente con questo qui utilizzando il beccuccio puterete aria vi faccio però due annotazioni importanti che vanno assolutamente rispettate allora ragazzi le ventole hanno un minimo e un massimo di rpm su cui sono testate e questa è una cosa molto importante da rispettare perché se voi prendete uno di questi cosi che spruzza aria farete ruotare ovviamente per inerzia perché gli arriva l'aria sopra la ventola molto molto velocemente spesso molto di più di quanto i cuscinetti possano sopportare quindi di per sé state molto attenti quando passate con l'aria sulle ventole bloccate le pale col dito evitate che si muovano se volete pulire meglio fatele ruotare piano 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 col dito non fatele girare a 200.000 rpm utilizzando l'aria di questo potreste danneggiarle mi raccomando altra cosa molto importante non ignorate il sotto del vostro case ci sono i filtri di polvere anche per l'alimentatore vanno puliti però ovviamente questa era soltanto una pulizia di forma era soltanto una pulizia per iniziare non è una pulizia a fondo adesso prendiamo il nostro pannetto antistatico che è molto importante e puliamo bene le ventole come? Molto molto semplice amici prendetelo mi raccomando fate attenzione ai pelucchi soprattutto se appunto sono cose così lo prendete e lo passate nel cerchio della ventola così piano piano e facendo attenzione piano 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 e avrete tolto un bel po' di polvere meglio utilizzare un panno morbido senza pelucchi fate molto prima quindi fate così attenzione a non fare troppa pressione sulle pale della ventola se voleste fare un lavoro di precisione potete anche smontare la ventola perché ci sarà sempre una coroncina di polvere nella parte posteriore solitamente si riesce a togliere con un getto d'aria e un po' di passaggi di panno così però se volete essere proprio precisi 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 e riportare a condizioni di fabbrica il vostro pc staccatele ovviamente dovete ripetere il passaggio per tutte le ventole singolarmente pulendole per bene però questo non basta specialmente nella zona dei radiatori come questo per agevolarci il lavoro smontiamo la scheda video che è una parte abbastanza ingombrante soprattutto con le top di gamma ma soprattutto che dobbiamo pulire assolutamente stacchiamo il connettore e stacchiamo lei io qui l'ho staccato però se avete la linguetta e non vi si stacca la scheda video non tirate a forza con il cacciavite o qualcosa di lungo comunque andate a fare pressione sulla linguetta la sbloccate e poi potete tirare fuori la vostra scheda video se non viene fuori vuol dire che non deve venire fuori che dovete prima ancora togliere la linguetta allora la scheda video è un po' ostile specialmente le top di gamma che hanno dei corpi lamellari nella parte di dissipazione molto densi e stretti ma questo vale anche per esempio per le founders di fascia media di Nvidia effettivamente bisogna far passare dell'aria per pulirli ora la parte diciamo insidiosa è che questi corpi qui sono molto molto stretti quindi richiedono una grossa pressione d'aria per passare ce ne sono anche di più stretti di questi per esempio questa founders di Nvidia come potete vedere è veramente super fine tra una parte e l'altra molto complesso arrivare alla polvere che infatti in questo caso si è annidata nuovamente compressore cosa che spruzza l'aria con bomboletta prendete andate in una zona esterna avviate l'aria e la fate passare fate passare l'aria anche tra le ventole ovviamente come prima non fate andare l'aria che faccia girare la ventola all'infinito perché potrebbe danneggiarne il cuscinetto o altre parti meccaniche che appunto facciano la rotazione non utilizzate un getto d'aria troppo potente le schede video hanno componenti delicate al loro interno non usate un compressore che sputi le atmosfere infinite e possa piegare qualcosa anche i corpi lamellari possono essere abbastanza delicati se spingete abbastanza col vostro dito già potete piegarli fate attenzione alle schede video sono prodotti costosi questi sono danni accidentali dell'utente non sono coperti alle garanzie se per sbaglio vi si dovesse piegare una piccola parte del corpo lamellare qui potete vedere per esempio che c'è una leggera curvatura piccolissima non succede niente anche se ne piegate 10-20 non succede niente le temperature rimarranno uguali ad ogni modo adesso potete vedere che è bella pulita approfittatene anche per dare una bella pulita al backplate e state attenti a questa zona dei caps perché effettivamente è delicata non passateci liquidi non inumidite il panno semplicemente passate con un panno in microfibra secco e senza peluchi se dovessero rimanere dei peluchi mentre pulite toglieteli con una pinzetta con le mani fate attenzione alle componenti elettroniche sono molto delicati quelle in questa zona non tanto che non potete toccarle però effettivamente fate attenzione insomma siate molto delicati una volta che abbiamo smontato la nostra scheda video ne possiamo approfittare per fare manutenzione anche il dissipatore della nostra CPU ora se avete un dissipatore ad aria è un po' più complesso perché il corpo sarà qui bello ingombrante è difficile farci entrare dell'aria dall'esterno e la parte però interna potrebbe essere gonfia di polvere in quel caso il mio consiglio per fare le cose per bene sarebbe di smontarlo se invece avete un radiatore come questo potete far passare l'aria attraverso il radiatore o attraverso le ventole ed eiettare fuori la polvere che probabilmente si sarà accumulata principalmente tra le lamelle del radiatore come potete vedere sono molto molto fini cioè potete vedere attraverso le ventole se passo così il telefono però effettivamente come potete vedere è veramente una finestra minuscola quindi nuovamente spingete aria e avete fatto prima di rimontare la scheda video pulite tutta questa zona della PSU Shroud semplicemente passando un panno fate attenzione soprattutto a questa zona intermediaria qui per maggiore precisione qui siccome non ci sono componenti elettroniche in vista passiamo con un panno antistatico togliamo il toglibile pulite anche i cavi pulite tutto però state molto attenti a non lasciare pelucchi indagate bene sulle vostre componenti elettroniche poi state molto attenti in questa zona in particolare vedete tutti questi pin possono farvi molto male ve lo dico sono duri per la pelle umana però non sono molto resistenti alla torsione quindi se li tirate si spacca dalla lunga e sono anche molto difficili da rimettere in posizione specialmente per la posizione ostica in cui sono 100 pezzi tutti vicini quindi quando passate in quella zona siate delicati specialmente con questi tipo reset e power che sono quelli attaccati alla vostra parte di input output del case quelli sono delicatissimi non tirateli in su si spezzeranno idem questa zona se avete schede di acquisizione o altre cose o staccate tutto e pulite oppure ci andate molto piano e delicatamente vicino così parte posteriore del case punto numero 1 le ventole ovviamente se avete un case a esposizione acquario o anche semplicemente una 10 ventole come questo avrete tanta polvere qui probabilmente ci sarà un filtro antipolvero qualcosa comunque in mesh per bloccarlo pulite quello a parte pulite il cerchio della vostra ventolina e se aveste un radiatore fateci passare dell'aria per far uscire tutta la polvere dalla parte appunto del radiatore del corpo lamellare di dissipazione per quanto concerne invece questa zona qua allora io ho una paratia quindi di per sé so già che non c'è polvere qui dentro questa zona diciamo è sia nascosta quindi un po' della polvere non ce ne frega niente ed è sia coperta di solito comunque da una paratia quindi di per sé non dovrebbe accumulare più di tanta polvere non dovrebbe esserci grande roba vi dico molto semplicemente spruzzateci dell'aria se come me qui sotto avete un grosso groviglio di cavi dovuto al numero alto di componenti di cose da alimentare ragazzi spruzzateci dell'aria ma vi dico ve ne frega anche relativamente poco potete anche farla uscire da questo lato spruzzando da qui da qui sopra dall'input output o qui dal lato però di per sé vi dico a meno che proprio non vi interessi di rimuovere la polvere da lì al 90% non ci sarà granché specialmente se il vostro shroud è chiuso quindi di per sé qui dietro non avrete grossi problemi adesso è tempo di chiedere tutto nella parte frontale rimontiamo tutto una sola cosa allora oltre alla pulizia potrebbe essere necessario un processo di manutenzione dipende dall'anzianità del vostro sistema nel senso se la vostra pasta termica ha un anno, due anni, tre anni può ancora andare bene cioè nel senso la pasta termica si si secca ma se non notate delle temperature che in qualche modo inficino quella che è la vostra esperienza che magari non siano 15 gradi più alte rispetto a quando avete iniziato con questo pc a parità di temperatura ambientale ovviamente perché se l'avete misurata a 20 gradi adesso ce ne sono 35 è normale che ce ne siano 15 in più comunque potete cambiare la pasta termica potete cambiare la pasta termica ovunque potete cambiare il thermal pad delle SSD, dei dissipatori delle SSD potete fare quello che volete però effettivamente parlando non serve a meno che non vi stia dando qualche problema quindi di per sé quella è più manutenzione che pulizia la sto solo mettendo dentro perché magari me l'avreste chiesto per pulire le RAM se vi dovesse servire magari se sono piene di ditate o cose così semplicemente tirate sulla levetta le prendete con il panno non per l'elettricità statica o altra ma per non lasciare ditate e dopodiché le pulite così vabbè adesso io lo sto facendo con una mano ma con due sarebbe più semplice togliete tutte le ditate questo perché ragazzi se lo fate mentre sono in posizione qui è possibile che storciate qualcosa facciate troppa pressione rompiate dei pin state attenti staccare le RAM è molto molto semplice ed è un'operazione veramente facile poi tenendole così col panno le rimettete in posizione dove stavano così col panno spingete spingete fatto e sono pulite già che ci siete approfittatele per dare una lucidata leggera sotto c'è il processore al vostro LCD del dissipatore o a qualsiasi cosa abbiate nella parte di waterblock così è bello pulito non bisogna dimenticarsi di una componente di cui tanti si dimenticano ovvero l'alimentatore l'alimentatore ha sempre la ventola verso il basso se non ce l'ha così vuol dire che avete sbagliato oppure avete un case che non lo permette ma al 90% avete sbagliato occhio però con i compressori è una componente piena di componenti elettroniche molto sensibili e soprattutto anche delicate non spruzzate troppa aria e se spruzzate aria compressa per favore cercate di aspettare prima di riaccendere tutto semplicemente fate attenzione ovviamente anche questa è una ventola non fatela girare a 2 milioni di RPM potrebbe rompersi e non volete dover aprire il vostro alimentatore in generale non fatelo mai e infine il vetro allora il vetro può essere ostile perché? perché è vetro da entrambe le parti e quindi le ditate possono rimanere da entrambe le parti il mio consiglio qui è molto semplice prendete la parte esterna e le date una pulizia approssimativa togliete giusto le cose principali togliete la polvere e cose così no non vi preoccupate di scendere troppo a fondo semplicemente togliete le parti principali perché tanto probabilmente lascerete altre ditate guardate quanto è pulito questo però ti ci puoi specchiare bomba poi lo ruotate io lo faccio senza lasciare ditate e pulite invece utilizzando la scocca per appoggiare le mani la parte interna in maniera molto molto precisa se lo sporco non viene via vi aiutate con lo spray di cui vi ho parlato prima che è fantastico potete metterne anche un po' di meno e semplicemente olio di gomito stando attenti a non lasciare altre ditate fate asciugare il prodotto a forza di spargerlo tanto è base leggerissimamente alcolica quindi evaporerà velocemente ma molto leggera così non rovina film e pellicole così vabbè adesso sembra sporco ma perché si deve asciugare e lo sto facendo con una mano poi una volta che la parte di vetro è pulita semplicemente fate così chiudete non vi preoccupate se lasciate delle ditate nella parte esterna perché tanto a questa parte avete accesso dall'esterno quindi potete pulirla e completare l'opera molto semplicemente e devo dire l'effetto finale con sto prodotto è uno specchio wow riesco a vedere i dettagli adesso noi dobbiamo finire il lavoro quindi lo stacchiamo un attimo e lo portiamo via a questo punto controlliamo il nostro lavoro e rimontiamo tutto pulite i vostri filtri e rimetteteli a posto come potete vedere il risultato finale è veramente molto molto pulito rispetto all'inizio ci sono tipo due chili di polvere in meno anche nelle zone che la gente normalmente non guarderebbe tutto molto sciallo e non abbiamo perso un minuto perché non abbiamo smontato niente ovviamente se volete farla di fino potete anche smontare tutte le ventole pulirle singolarmente blablabla tutto quello che volete però è scomodo invece così abbiamo fatto per bene ricordatevi di rimettere tutte le paratie nello stesso ordine e non dimenticatevi anche i più piccoli filtri antipolvere questi vi semplificano la vita in particolare questi ricorser sono comodi perché puoi rimetterli dentro in maniera abbastanza semplice di solito ecco qua senza dover stare a ribaltare tutto la zona di input output pulitela il più possibile però in realtà al 90% non ci si accumulerà polvere a meno che proprio non siamo passati anni e anni e anni è una zona difficilmente accessibile per la polvere a meno che non ci sia un flusso diretto e con questo abbiamo finito il nostro pc è pulito l'indo non abbiamo faticato ci abbiamo messo tipo 5 minuti anche se ovviamente per spiegarvelo col video ci ho messo un po' di più ma di solito ci metto 5 minuti è pronto all'utilizzo bello espositivo ultimi dettagli quando avete finito passate sulle componenti che abbiano parti di metallo esposte così in maniera da togliere le ditate idem per il vetro idem per il metallo semplicemente negli ultimi passaggi potreste sporcare qualcosina passate con il panno e lucidate semplicemente così dopo è tutto perfettamente asettico come ci piace a noi non vissuto e anche questo mese si è preso la sua pulizia ricordatevi che pulirlo ogni mese consiglio un po' da mamma è il metodo più semplice per tenerlo in ordine non dover smutare tutto ogni volta che lo andrete a utilizzare e dover pulire se aspettate 6 mesi potreste avere i gommitoli e i conigli in giro ad ogni modo per questo video è tutto fatemi sapere voi cosa ne pensate datemi altri consigli giù nei commenti qualche prodotto che conoscete che possa tornare utile sana usato